Una risposta riscritta in maniera totalmente errata Io non ho mai detto che l'homo se solida è una scelta Ovviamente l'homo se solida non è una scelta ma ci nasci Quindi mi è sembrato un po' assurdo Ovviamente capita ogni tanto durante l'intervista al telefono di essere un po' fraintesi Però vabbè, infatti nella prossima storia vi girerò il link dell'intervista così come l'avevo fatta E niente Grazie a tutti Grazie a tutti